Ciao a tutti, noi siamo di un indizio, guardate la mia maglia, palme, 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 siamo sulla riviera delle palme, a San Benedetto del Tronto, uno dei lungomari più belli d'Italia, siamo arrivati da circa mezz'oretta, siamo andati in appartamento che dista solo 5 minuti da qua, dove ci hanno gentilmente affittato le bici, erano comprese nell'appartamento, quindi siamo subito venuti qui su lungomare, adesso cerchiamo un buon ristorantino di pesce perché qui ragazzi c'è un po' di fritto esagerato, non vediamo l'ora di mangiare e poi dopo andiamo a farci un bagnetto, andiamo un po' in spiaggia, a goderci un po' di sole, oggi molto caldo, veramente molto caldo, mi stanno sudando anche i baffi che non ho, però conto di prendere molto sole, visto che sono un po' bianchina, abbiamo ben girato in bici, non ce lo toglie nessuno, così prendiamo ancora più sole, prendiamo anche l'aria e non sudiamo, così, secondo me sì, perché facciamo un movimento, adesso vedremo. Ragazzi vi dobbiamo raccontare una cosa, allora abbiamo scelto a caso il ristorante, abbiamo preso le biciclette, abbiamo fatto un po' di lungomare, abbiamo scelto a caso il ristorante, ma ce ne sono un milione e mezzo, abbiamo scelto di andare in questo ristorante, ci sediamo, ci hanno fatto un tavolo perché era tutto prenotato, quindi benissimo, anche perché era il più pieno, abbiamo detto se è pieno si mangia bene, però i camionisti non c'erano, stranamente, no, siamo su lungomare, i camionisti qua no, insomma praticamente ci sediamo, ordiniamo, ci arrivano gli antipasti buonissimi, pesce freschissimo, buonissimo, però ci sono arrivati gli antipasti prima del bere, prima dell'acqua, del vino, del pane, noi avevamo una certa rassura e quindi mi hanno detto scusi ci puoi portare anche da bere, sì sì scusate, ok. A seguire ordiniamo una frittura mista per due, ma la frittura è di calamari gamberi, sì, no paranza perché io non ci voglio, sono... Quella con le spine praticamente. Sì, niente, cosa ci arriva? Quella con le spine. Quella con le spine. Sono anche pettinate con la lisca, si vede. Cioè praticamente gli diciamo al cameriere, guardi, cioè abbiamo ordinato l'altra e lui fa va bene, se volete non c'è problema, però c'è un po' da aspettare, al che diciamo no, va bene, va bene così. Dopo un po' ci portano quella giusta. Senza spine. Senza spine. E quindi ci dicono, ah, l'abbiamo fatta, questa ve la offriamo. Lo vuoi fare? Gratis, gratis, mangiata. Sono strapieno. Quindi, niente, siamo felici, pieni. Adesso ci siamo seduti qui sulla panchina, sotto questo arco bellissimo di fiori, palme, ombra, relax. Niente, adesso cerchiamo una spiaggetta per buttarci in acqua, prima che riferi di gestione, perché abbiamo mangiato, come avete capito. Un bel po'. Non ci facciamo mancare mai niente. No. Stasera dove andiamo? Grattamare? Filo? mancare mai niente. Oh, un bel bagnetto. Allora, signori, come al solito, con la nostra fortuna, sono le 5 e mezza, sono in spiaggia, dovevamo fare un aperitivo qua in spiaggia, stare, insomma, fino alla sera tardi in spiaggia, invece si sta nuvolando anche stavolta. Cioè, da quando abbiamo iniziato a fare i video su YouTube, o c'è il vento, è nuvoloso, o piove. O piove, tempeste. Niente, adesso abbiamo deciso di andare in appartamento, ci facciamo una docetta e poi prendiamoci la macchina e andiamo a cercare un posticcino dove fare l'aperitivo e vediamo se cenare no, perché oggi abbiamo mangiato quei due fritti. Un po' troppo. Ci sono rimasti un po' pesanti. Io sono imbornito duro, ho dormito fino adesso praticamente. Adesso, appunto, con la doccia speriamo di riprendersi un pochino, facciamo un giretto, andiamo San Benedetto in centro. E forse anche Grottamare stasera, quindi... Anche a Pescara possiamo andare, già che ci siamo. No, a Pescara più in giù. Ah sì, tanto ormai. A Pescara c'è il tornado se andiamo, quindi... ti prendo, ti prendo! Oh, abbiamo fatto la doccia, ci sono tutti belli profumati, riposati, di nuovo sudati, perché è caldissimo. Vabbè dai, adesso abbiamo parcheggiato qua in centro e andiamo, come si chiama, a Viare del Corso, qui sono Benedetto del Tronto, dove ci sono tutti i locali, i negozi. Andiamo a fare un aperitivo, però non mangiamo tanto perché abbiamo ancora i due fritti sul stomaco. Un'apecena, un'apecena. Sì, sì. Eccoci arrivati in centro. Molto, molto bello. Piace lì? Sì, è pieno di fiori. C'è un profumino nell'aria di fiori. E di cibo. Anche di cibo. Adesso cerchiamo un barrettino. Un barrettino, sì, per fare una funcena, un aperitivo. Persone Marivano. Adesso l'avisa, dove sarà? Guardando i negozi! Speriamo che dopo cazzo mercatini in giro. E se ci scoby, ero. Qua ci sono i giochi per i bambini? Ma cosa c'è qua davanti? C'è un mercatino, siiii! E' bello questo mercatino, mi sto divertendo un sacco! Oh, questo mi piace anche a me, questo mancherello! Tutte queste cosine etniche! Bello eh? Benissimo! Più che altro dove le mettiamo? Visa, io vorrei un'idea dove metterle! Sono anche a forma giusta per te! Ho visitato il mercatino, dai alla fine era bellino! Sì, solite roba, se volete una custodia per il cellulare è bello! Però è carino, ho prestato molto anche se non ho comprato niente! In certa cattura ha perso anche il bancarelliere! Il bancarelliere! Come si chiama? Con la bancarella! Ci ha dato di andare a Scolificeno che è bellissimo, sicuramente bellissimo e ci andremo prima o poi! Anzi, se volete vedere a Scolificeno, sicuramente che andiamo da Scolificeno, scrivetelo nei commenti! Niente, adesso facciamo l'ultimo giretto sul mare, il tramonto è già passato ma poi dall'altra parte d'Italia ma lo stesso, ce l'imaginiamo! Vabbè, facciamo una passeggiatina per il parco e poi andiamo in appartamento a dormire perché siamo stanchissimi! E domani probabilmente andiamo a vedere Grotta al Mare, adesso vediamo! Ciao! State con noi! Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo dormito nel nostro appartamentino, da San Benedetto del Tronto, da nostra nuova amica Giuseppina! Giuseppina! Adesso salutiamo! Ciao Giussi! Ciao! E siamo, adesso vado su, dove? Siamo nel paese alto di San Benedetto del Tronto perché siamo venute a vedere questa meravigliosa torre, Torre dei Gualtieri e niente, paesino meraviglioso! Vista mozzafiato! Peccato per la foschia che... La cappa più che altro! Esatto! Mi si vede anche bene! Però... Ci sono già 30 gradi e sono solo le nove e mezza del mattino quindi non c'è male insomma! E niente, adesso visitiamo un attimino, non si può entrare al momento, quindi visitiamo la piazza, la torre e poi c'è una abbattia e... ma la cosa particolare di questa abbattia è che tutto intorno vi hanno costruito delle case, cioè ci sono le pareti delle case nuove costruite sui muri di questa abbattia. E' una cosa molto particolare! Finalmente siamo arrivati a Grotta Mare! Quante volte l'abbiamo detto in questo video! Venti! Andiamo a Grotta Mare! Guardate il paesino alto là su che bello! Ci deve essere un panorama, peccato sempre per il cielo! Salute tubo spettatori! Adesso andiamo a fare un girettino! Grazie! Ok ragazzi, purtroppo il nostro weekend è finito, stiamo per tornare a casa, però questa è la terza volta che torniamo in questi posti che ci piacciono tantissimo perché si sta bene, c'è un bel mare, una bella spiaggia, spiaggia attrezzata e non come si può scegliere Si gira in bicicletta, si possono fare passeggiate a piedi, in bicicletta, si mangia benissimo, il pesce è veramente buono, fresco e quindi a male in cuore, ci dispiace ma dobbiamo tornare a casa Quando vado in un posto penso, mi si trasferirei? Sì, qui mi trasferirei, in giro in bici, esci a piedi, c'è di tutto, di più Bello, bello, direi che possiamo concludere qua il video, mettete un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale, fate da matti su questo video, così ci aiutate a crescere Alla prossima, ciao!